Paola Testori Coggi vicepresidente dell'associazione donne leader in sanità. Nella sanità e nelle scienze della vita le donne sono il 70 per cento della forza lavoro, a livello dei medici le donne sono il 44 per cento, ma ci sono poche donne che occupano posizioni apicali. Con la nostra associazione noi lavoriamo per spingere la leadership venile e per dare alle donne la stesse opportunità di accesso alle carriere apicali. Noi riteniamo che avere delle donne che occupano le posizioni di responsabilità nel settore sanitario, pubblico, privato e in tutti i settori che sono attinenti alle scienze della vita è un grande vantaggio per la collettività.